secondo giorno di tamponi a scuola per ricci è un esperimento da ripetere nuova questura i sindacati di polizia candidano in la marina prof 2021 gran galà al vecchio balasport e quattro nuove produzioni a fiorenzola di focara la nuova sede dell'ente parco san bartolo una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre ritrovati a rossini news il nostro telegiornale della sera con tutte le principali notizie della provincia di pesaro urbino e della regione marche telegiornale di venerdì 29 gennaio che apriamo con la situazione dei tamponi nelle scuole superiori oggi si è tenuto il secondo giorno di questo test medico negli istituti superiori della città di pesaro e continua l'ottimo riscontro di adesioni per quanto riguarda i partecipanti ai test questa mattina rossini tv è stata presente al liceo artistico mengaroni uno dei quattro punti di screening dove era presente anche il sindaco di pesaro matteo ricci siamo molto soddisfatti perché l'affluenza è alta e grande senso di responsabilità da parte degli studenti da parte del mondo della scuola e la dimostrazione che serviva serviva per rendere rientra scuola più sicuro e credo che grazie all'ail alla croce rossa la protezione civile a tutta l'organizzazione che mila giuliana non messi in piedi abbiamo dimostrato anche una capacità organizzativa non da poco ed è la dimostrazione che serve in tutta la regione perché io sono contento per i ragazzi di pesaro che hanno questa opportunità per i ragazzi che studiano a pesaro di altri comuni che hanno l'identica opportunità ma penso che sia un'opportunità che dobbiamo dare a tutti gli studenti della regione marche la regione marche ha tantissimi tamponi in magazzino potrebbe organizzare direttamente questo screening e rendere rientra scuola più sicura o sostenere come abbiamo chiesto noi iniziative dei comuni in questo senso le istituzioni devono collaborare sempre a maggior ragione quando parliamo di sicurezza sanitaria e quando parliamo di scuola l'altro elemento che viene fuori che andrebbe ripetuto perché per avere una fotografia costante dell'andamento dell'epidemia della sicurezza scolastica andrebbe ripetuto io credo una volta al mese la regione marche ha i tamponi sufficienti per farlo e per far sì che la scuola non sia ancora una volta la prima cosa che richiude e la prima è l'ultima cosa che riapre con giuliano e mila stavamo anche ragionando di aprire la prossima settimana a coloro che questi giorni magari per timore non sono andati l'altra cosa interessante sarà il valore statistico perché sapere statisticamente come qual è lo stato di salute della popolazione scolastica è molto importante ad oggi a rientro dai primi dati pare che la scuola sia sicura c'è un senso di responsabilità dei ragazzi che ci sorprende ma non ci dovrebbe sorprendere perché noi lo vediamo in tanti contesti che questi ragazzi sono veramente maturi e sono in grado di saper scegliere e di poter valutare la situazione e poi ci sono degli insegnanti molto responsabili che sanno addestrare e perlomeno incitare i ragazzi a comportarsi adeguatamente credo veramente che sia un esempio di buon vivere di sano vivere che va ripetuto il più presto possibile E tornano a scendere i contagi da covid-19 nelle Marche con il rapporto positivi testati passato all'11,8% rispetto al 15% di ieri Sono 371 i positivi nel percorso nuove diagnosi di cui 111 in provincia di Pesaro Urbino Il tutto su una giornata di 4780 tamponi testati di cui 3132 nel percorso nuove diagnosi Stabili anche i ricoveri nelle Marche 613 di cui 73 in terapia intensiva Nella giornata di ieri si sono purtroppo registrati anche 13 decessi di marchigiani contagiati da covid-19 E continuiamo a parlare di sanità ma anche di solidarietà perché il Rotary Club di Pesaro ha donato due nuove apparecchiature alla residenza sanitaria di Galantara Si tratta di strumenti fondamentali per migliorare la diagnostica dei pazienti affetti da covid-19 in fase post-acuta Vediamo il servizio di Simone Celli Diagnosi precoce e stop agli spostamenti inutili Sono questi i principali vantaggi scaturiti da una fondamentale donazione da parte del Rotary Club di Pesaro a favore della residenza sanitaria Galantara Si tratta di un ecografo portatile, completo di carrello e stampante laser e di un elettrocardiografo Due nuove apparecchiature del valore complessivo di 26.700 euro particolarmente preziose per la struttura pesarese che, tra la prima e la seconda ondata ha già curato e assistito oltre 410 pazienti covid Un percorso che è cominciato a maggio dell'anno scorso prima dell'inizio della mia presidenza valutando le necessità che sul territorio si erano verificate a seguito della pandemia A Galantara mancava un ecografo e quindi ci siamo adoperati per riuscire a donarlo e per fare questo abbiamo utilizzato i fondi della Rotary Foundation che ci è stata molto vicina e per la prima volta siamo riusciti a raccogliere appunto dei denari anche all'estero cosa che di solito nelle nostre progettazioni era più facile vedere uscire in questo contesto abbiamo avuto un forte ingresso e questo ci ha consentito di riuscire a fare questa donazione siamo molto contenti perché oltre all'ecografo che è uno strumento molto valido dal punto di vista tecnico siamo riusciti a donare anche un elettrocardiografo per rendere l'istituto di Galantara sempre più autonomo quindi per fare in modo che i pazienti di Galantara non si devono spostare a seguito delle loro necessità Quanto è importante questa donazione? È molto importante perché in primis va finalmente una struttura territoriale una struttura del territorio, questa è un RSA che ha una duplice funzione sia la cura e l'assistenza delle persone anziane post-acute che anche la parte di riabilitazione intensiva quindi ha una duplice anima l'ecografo e l'ECG sarà utile perché così le persone che sono ricoverate e hanno bisogno di assistenza in questo momento sono anche covid positive non dovranno più prendere l'ambulanza e essere trasferite verso un ospedale o una struttura territoriale mia poliambulatoriale per effettuare o un'ecografia o l'ECG questo è importantissimo e soprattutto rafforza la qualità dell'assistenza che noi diamo in particolare delle cure primarie perché ricordiamo che questa è una struttura che è completamente gestita dalla medicina generale, dalle guardie mediche e da fisiatri Le apparecchiature verranno utilizzate anche nel reparto di riabilitazione e regalano sin da subito una boccata d'ossigeno all'intero sistema sanitario locale alle prese con l'emergenza covid Con le forze nostre non riusciremo ad arrivare dappertutto quello che serve per il territorio quello che serve per l'ospedale e quant'altro quindi il Rotary ha fatto un'azione importantissima in una struttura territoriale che in questo momento sta rispondendo in maniera molto molto importante alla pandemia ci permette di prendere pazienti dall'ospedale, principalmente dall'ospedale di Marche Nord e in contemporanea quindi prendendo pazienti dall'ospedale di Marche Nord consente di liberare posti di malattie infettive e quant'altro per l'ospedale di Urbino quindi diciamo che è un'integrazione importante poi uno strumento che finora nelle strutture residenziali non c'era mai stato quindi chiaramente obbligherà i professionisti che operano all'interno della struttura ad acquisire anche esperienze e quant'altro e che potremo tenere cara per dare risposte adeguate ai malati ricoverati in questo momento in quella struttura per covid ma prima o poi il covid finirà è una struttura che rimarrà come struttura residenziale e territoriale quindi potrà contare su questo importante strumento anche in futuro e cambiamo argomento e ci occupiamo ora della candidatura di Pesaro a Capitale Italiana della Cultura 2024 una sfida che è partita con una inattesa concorrenza interna con Ascoli Piceno e a quanto pare con la stessa regione Marche però dopo il sostegno ad Ascoli da parte del governo Acquaroli è arrivato un attestato di supporto anche a Pesaro come vediamo nel prossimo servizio Pesaro, Ascoli e i sospetti di favoritismo da parte della regione Marche verso il Piceno si conclude una settimana di candidature marchigiane al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024 in cui il fronte politico ha finito per ridurre a paesaggio sullo sfondo quello programmatico il 22 gennaio Pesaro ha presentato la sua candidatura qualche giorno dopo Ascoli Piceno ha fatto altrettanto con il seguito dell'appoggio ufficializzato da parte del governo regionale Apriti cielo sono germogliati i sospetti pesaresi di favoritismo verso Ascoli smorzati però dell'assessore regionale alla cultura Giorgia Latini che l'ha minimizzata a una mera questione formale Ascoli aveva semplicemente inoltrato richiesta ufficiale non pervenuta da Pesaro ma Pesaro non è bastata come giustificazione a maggior ragione del fatto che la Latini figuri nel comitato tecnico d'appoggio ad Ascoli ora però l'assessore alla cultura di Pesaro Daniele Vimini cerca di spostare l'attenzione dal fronte polemico al piano operativo ma abbiamo detto più che altro ci è sembrato un po' sospetto nella tempistica abbiamo ricevuto oggi una lettera da parte della regione che non esplicita in maniera chiara il sostegno come ad Ascoli piuttosto che altro non sarei per portare avanti la polemica lavoreremo con le nostre forze osserveremo il progetto di Ascoli a cui facciamo i migliori auguri con cui collaboriamo su tanti aspetti quindi per noi Ascoli è non tanto un competitor perché la sfida nazionale ma è una città importante di riferimento così come credo che noi lo siamo per loro per altri elementi quindi sarà comunque un percorso di crescita per tutti la regione farà le sue valutazioni, le sue scelte su come accompagnare i percorsi le regioni non sono l'alfa e l'omega di queste candidature è chiaro che ci piacerà fare in modo che tutti si rendano conto di quanto questa sfida delle due città di due delle città importanti che sono le uniche che fino ad ora non hanno preso parte di questa competizione possa essere un veramente valore aggiunto per tutto il territorio promozionalmente verso il 2024 Torna ad attualità il tema della nuova questura a Pesaro ricordiamo infatti che il progetto prevede gli spostamenti dall'attuale sede di via Giordano Bruno nei locali dell'ex intendenza di finanza in via Zongo però è un progetto che a quanto pare non decolla e sul quale si sono espressi gli stessi sindacati di polizia candidando piuttosto lo stabile di Villa Marina come una plausibile soluzione alternativa rilanciamo questo complesso che come vedete è in totale stato di abbandono al momento anche l'ultima asta pubblica è andata deserta per un importo di 5,8 milioni di euro noi reputiamo che prendendo solo la zona della colonia con le somme messe a disposizione dal comune e dal demanio sarebbe un'operazione molto interessante per portare fuori finalmente dall'impasse la nuova questura e la sua realizzazione poter sfruttare Villa Marina che attualmente vedete voi è addirittura stata transennata e ricoperta perché c'è l'ordinanza del sindaco per il brutto e quant'altro Villa Marina potrebbe accorpare la questura in un unico edificio essere più funzionale per i cittadini e per i poliziotti uno su tutte perché è fuori dal centro storico quindi libereremo la piazza e riusciremo finalmente ad avere un'unica struttura e non come si potrebbe prevedere due strutture separate quindi anche per noi un impiego diverso di vigilanza e di dispendio del personale dal momento della proposta io personalmente ho ricevuto anche molte attestazioni molti messaggi che hanno supportato questa proposta perché molti cittadini si trovano in difficoltà a raggiungere la questura che è in pieno centro storico in zona ZTL io penso solo agli anziani che non hanno la possibilità di avere un permesso di disabili o comunque anche delle persone che possono accedere che non hanno la facoltà di parcheggiare qui avremo parcheggi a volontà avremo la possibilità anche di essere un presidio sul mare dove d'estate abbiamo problemi lamentati dai bagnini avremo anche la possibilità di accogliere persone in una maniera più decorosa e più utile e fruibile per tutti quanti basta di pensare che noi abbiamo l'ufficio immigrazione in via Giusti e il fotosegnalamento in piazza del popolo qui avremo tutto quanto a portata di mano molti politici locali mi hanno contattato e hanno detto che sono d'accordo l'unico messaggio negativo che ho avuto è stato dall'assessore Belloni che ha commentato un post su Facebook che era stato rilanciato dicendo idea senza idee ecco io sinceramente mi aspetterei dall'amministrazione comunale un confronto più costruttivo non sui social e soprattutto una presa di posizione se i lavori devono iniziare iniziassero a questo punto perché da cronoprogramma i lavori dovevano terminare entro dicembre del 2021 stiamo a gennaio, ormai febbraio non si vede traccia di nulla e immagino anche il disagio delle attività commerciali che stanno sotto l'intendenza di finanza che dovrebbero nuovamente oltre alla pandemia le chiusure e quant'altro subire un'altra penalizzazione dei lavori che verrebbero fatti nella struttura questa è l'unica opportunità per capitalizzare i soldi che sono a disposizione e dare una risposta definitiva alla collettività e anche ai cittadini e soprattutto ai poliziotti e ai lavoratori ed è stato svelato oggi il programma della 42esima edizione del ROF Rossini Opera Festival che si terrà a Pesaro dal 9 al 22 agosto 2021 e che prevede 4 nuove produzioni il viaggio a Rams dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda 8 concerti e il Galà Rossini finale per un totale di 25 spettacoli un festival che sarà inaugurato lunedì 9 agosto alla Vitri Frigo Arena da Moise et Faraon una delle 4 nuove produzioni le altre novità saranno il Signor Bruschino il 10 agosto al Teatro Rossini Elisabetta Regina d'Inghilterra l'11 agosto alla Vitri Frigo Arena e infine lo Stabat Mater in forma scenica il 20 agosto il festival sarà chiuso dal Galà Rossini con la presenza di Juan Diego Flores che inaugurerà il nuovo Auditorium Scavolini ricavato negli spazi del vecchio Palasport di Viale dei Partigiani i vertici della Confcommercio di Fano hanno incontrato questa mattina l'assessore regionale Francesco Baldelli per confrontarsi sulla questione del traforo della guinza tornata alla ribalta Confcommercio si è detta preoccupata dalle notizie trapelate che prevederebbero un senso unico con direzione verso la Toscana che comporterebbe una serie di penalizzazioni per tutto il territorio provinciale a Baldelli è stata evidenziata la necessità di non fermare il percorso già avviato da anni e che finalmente vede tra le priorità regionali proprio il completamento sono in via di ultimazione i lavori di ammodernamento dello stadio Amati di Lucrezia grazie a un primo intervento di 209 mila euro avviato dal comune di Cartoceto il centro sportivo è stato potenziato con la realizzazione di due campi in erba sintetica per il calcio 5 e per il calcio a 7 ed è poi stato dotato di impianto di illuminazione nuovi spogliatoi e relativi percorsi di collegamento tra le strutture un secondo intervento di circa 80 mila euro è stato invece volto proprio a riqualificare i vecchi spogliatoi risanare le condotte fognare senza scavi così a Urbino Marche Multiservizi sta utilizzando una tecnologia innovativa di intervento in via del soccorso via Grandi e via Martin Luther King poco rumore, nessuna polvere e disagi limitati alla circolazione intervenendo sulle condotte della rete fognaria senza la necessità di effettuare gli scavi e parliamo di una produzione letteraria si chiama infatti Getta il tuo affanno il racconto di Andrea Bazzocchi ispirato alle vicende di un noto cittadino pesarese che racconta il dramma di un uomo che per sette settimane è vissuto sedato in seguito al Covid-19 all'ospedale di San Benedetto del Tronto anno nuovo, vita nuova per il Parco San Bartolo l'ente infatti si prepara ad avere una nuova sede e anche tutta una serie di nuovi progetti che vi illustriamo nel prossimo servizio parte di slancio il 2021 del Parco San Bartolo in un connubio fra ente e comune che introdurrà la guardia del parco l'assunzione di un cantoniero a cura della sentieristica un rinnovato piano di prevenzione incendi così come rinnovata è la cartellonistica per ciclisti e escursionisti e poi una migliore convivenza tra l'uomo e la fauna locale previsti dissuasori per mettere animali a riparo dalle strade così come una accurata gestione dei cinghiali questa la nuova filosofia operativa del presidente Stefano Mariani invertire un po' quello che è il modo di operare del parco cioè il parco come ente promotore di azioni a tutela del sviluppo turistico, culturale e patrimoniale, economico di quelle che sono le realtà che poggiano sul territorio semplicemente questo con l'aiuto del comune perché noi senza il comune o senza i comuni perché noi siamo un parco intercomunale e quindi chiaramente il comune di Piesa e il comune di Gabice poco saremo quindi il parco che nel corso di questo 2020 è sempre diventato una realtà sempre più importante magari prima un po' più trascurata adesso più importante con quello che è avvenuto deve comunque promuovere quelle che sono delle iniziative tanto che in questo nuovo modo di operare il parco è alla ricerca e ha partecipato al cofinanziamento e alla ricerca di finanziamenti Pesaro e Gabice avranno finalmente anche una sede a metà strada dopo anni di promesse la nuova sede del parco sarà a Fiorenzuola di Focara cioè nel cuore del parco il comune di Pesaro destinerà ad altre funzioni di valorizzazione del San Bartolo l'attuale sede di Baia Flaminia a Fiorenzuola invece ultimi ritocchi per una sede con efficientamento energetico e che soprattutto ospiterà il centro visite che mancava l'occasione sarà anche per parlare del trasferimento della sede qui a Fiorenzuola di Focara dell'ente parco perché così era dovuto e perché questi erano gli accordi di oltre vent'anni fa tra il comune e il parco e anche perché finalmente ci doteremo di un centro visite che in realtà al parco non esiste ed è obbligatorio che esista un centro visite in un parco perché qui siamo al centro intanto dei due comuni essendo un parco intercomunale siamo all'interno del territorio del parco perché precedentemente il parco era fuori dal territorio del parco Oggi presentiamo diverse iniziative dal cantoniere del parco alla guardia del parco a soprattutto questa sede che diventa sede ufficiale del parco e quindi permette anche un presidio maggiore ma anche una visibilità maggiore in uno dei punti in uno snodo di riferimento per i ciclisti appassionati del mare per le escursioni ai piedi quindi sarà anche più visibile, più frequentabile e quindi più testimonial di quella che è l'importanza e l'azione del parco e in più appunto c'è tutta una serie di progettualità e di iniziative che legano il comune e il parco San Bartolo la stessa sede che non ospiterà più la parte amministrativa ma verrà messa in gioco dal comune di Pesaro per progetti naturalistici, ambientali, sportivi di cui diciamo tutta la ricchezza di offerta del parco rimarrà comunque diciamo un elemento parlo della sede ovviamente e ma è famiglia quindi tutto un sistema che si rafforza Ai piedi del San Bartolo si è completato oggi anche un importante abbattimento di barriere architettoniche grazie a un investimento di 50 mila euro del comune di Pesaro il centro socioeducativo di Villa Vittoria è stato infatti dotato di un ascensore che consentirà agli utenti disabili di soffrire anche del primo piano fin qui inutilizzato e concludiamo il nostro notiziario con lo sport perché già domani torna in campo la Viz Pesaro che alle 17.30 sarà chiamata a risollevarsi dalle sue quattro sconfitte consecutive in un'impresa complicata al cospetto del Modena secondo in classifica altrettanto ostico il compito dell'Alma Juventus Fano che domenica alle 17.30 sarà a Padova sarà un weekend invece di sosta per l'Ital Service e il campionato di calcio a 5 mentre nel basket la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro giocherà la sua seconda gara consecutiva alla Vitri Frigo Arena ospitando Venezia campione d'Italia in carica e con lo sport si conclude questa nostra edizione della telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata alle 21.15 spazio alla danza con In Wonderland il saggio di danza di ASD Dance Studio vi ricordiamo anche che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domani in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa prevista anche al sabato e condotta per l'occasione da Antonio Astuti prima di salutarci vi ricordiamo il nostro numero whatsapp dedicato alle segnalazioni 370-366-7210 numero in cui potete denunciare attraverso foto e video quello che non va nel nostro territorio ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale da tutta la redazione il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i programmi di Rossini TV